come andiamo ragazzi qui è frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio di metroid dread lo so purtroppo ieri non ho pubblicato nulla di questo gioco vi chiedo scusa ma eccomi qua nuovamente quindi nella playlist in descrizione potete vedere cosa pubblico giorno per giorno siamo comunque arrivati a un punto ragazzi avanzatissimo del gioco praticamente adesso penso che andremo a chiudere a tutti gli effetti la nostra avventura nello scorso episodio abbiamo ottenuto quello che possiamo definire a tutti gli effetti il potere più più comodo del gioco ovvero opla eccomi qua ovvero il potere che ci fa sparare 8500 razzi cannonate tutte insieme vedete ce li fa tipo ce li fa tipo selezionare e poi basta sparare così e li spara a tutti troppo troppo comodo uno dei miei poteri onestamente preferiti adesso dobbiamo capire un po dove andare perché all'interno di questo episodio di oggi dobbiamo fare principalmente due cose la prima è ottenere la gravity suite anzi mi pare che la gravity suite sia la seconda la tuta gravità con la viola mentre prima della tuta gravità dobbiamo ottenere lo space jump può essere che si chiamasse così generalmente non ricordo in italiano come si chiama in italiano come si chiami perché comunque al momento abbiamo già il doppio salto vedete però penso che aiuto 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 quello che dobbiamo tenere il salto continuo cioè ci fa saltare tutte le volte che vogliamo praticamente in aria ci fa continuare a fare questi saltini dobbiamo sbloccare quindi queste porte devo guardare però un attimo come si si chiamava questa porta ok missile tempesta ne dobbiamo trovare un'altra che fosse questa era quella ok ce n'è abbastanza da spaccare adesso non mi ricordo oggettivamente se fosse questa quella che dovevamo spaccare più che altro ho un po di perché dobbiamo andare forse sottilino forse spero con tutto il cuore di no nella zona emmy e io onestamente la volevo aia dio santo che male io la volevo evitare come la peste adesso vediamo se era qua si mi pare proprio che fosse qua in zona sia qua la cassa missile tempesta ok perfetto ok e slidiamo qua sotto eccola qui allora è una scemenza dobbiamo semplicemente fare questo e ci apre la la cassa ok e abbiamo sbloccato la via del ritorno ci saranno all'interno di questo video due o forse addirittura tre boss che dovremo affrontare cercherò di affrontarli nel tempo minore possibile ma soprattutto farvi vedere tutti i trickshot per affrontarli solitamente quando il caricamento di una stanza è così lungo vuol dire che c'è un boss ecco adesso purtroppo c'è questo problema questo problema chiamato twin choso robot robot ok aia che male ah ok sviluppatori di metroid dread essere tipo si si non era già abbastanza difficile prima dobbiamo farvene due ok uno è quasi andato comunque oh shoot ma sai che forse ci muoio eh sì senza il forse ok uno è andato good adesso vi faccio vedere perché c'è un trickshot aiuto dovrebbe esserci un trickshot per affrontarli ma non sono sicuro che sia qua no mi sa che non è qua forse in un altro in un altro punto eh vabbè ma che sfiga ok oh madonna meno male ok li abbiamo spaccati in realtà per affrontarli easy peasy questi basterebbe semplicemente usare lo shiny spark super cinesi soltanto che non me l'ha fatto usare non me l'ha fatto usare dobbiamo prendere questa adesso mi pare di sfera abilità raga ma vi scoccia se io tipo dovessi salvare adesso non mi fido non è che non mi fido delle mie capacità ma non mi fido di sto gioco perché sviluppatori di metroid essere piace hey questo boss ti fa due taniche di benzina di danno con una mossa oh eh vabbè però dammelo ok questo lo sfasciamo perché ci serve dobbiamo andare qua su se non mi ricordo male ok oh me oh me oh me oh no 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 non mi prende vero si mi ha preso ma what ma perché è così forte ma come fa ecco adesso qua ci dovrebbe essere quel salto che vi dicevo eccolo qua come si chiama spacer astro salto ok io l'ho chiamato space jump che è tipo non dico una traduzione letterale però non mi ricordo come si chiamava in inglese giusto cioè non mi ricordo né in italiano né in inglese onestamente permette a Samus di saltare ripetutamente durante un salto rotante primi B al momento giusto durante un salto rotante per saltare di nuovo quando usato sott'acqua Samus non può saltare più in alto del primo salto senza la tuta a gravità infatti adesso ci serve la tuta a gravità comunque come vedete ci permette di continuare a saltare forte si troppo genuinamente uno dei poteri più sgravi di del gioco secondo me ok mi date per favore qui così allora il primo utilizzo che ne facciamo è questo ecco vedete comodo tu sei molesto tu anche peggio ok adesso dobbiamo fare quello che immaginate ok sfruttarlo adesso qua si è aperto e possiamo tornare indietro prossimo passo andare a Burenia Burenia si ora Burena Burenia 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 ok perfetto dobbiamo tornare qua a Gravoran a Gavoran e attivare il portale verde che ci porterà quindi a Burenia e quindi ci farà prendere la tuta a gravità da adesso fino alla tuta a gravità non mi ricordo se ci sono altri choso robot quelli che abbiamo affrontato però ci sarà comunque un boss fortissimo dopo la tuta a gravità perché successivamente succederà un casino pazzesco non penso che riusciremo a farlo all'interno di questo episodio il boss che vi dicevo dopo questo boss però prenderemo uno degli attacchi più forti di tutto Metroid lo screw attack l'attacco a vite in sostanza mentre stai facendo un salto un qualsiasi salto tu stai attaccando ti si fa una cosa intorno che ti fa fare danno e a mio parere boh rottissima allora adesso devo ricordarmi dove dobbiamo andare perché se non mi ricordo male qua sotto c'era appunto la possibilità di usare la porta missile tempesta adesso noi dobbiamo entrare lì dentro perché prima non ci potevamo entrare per ovvi motivi non avevamo l'astro salto non potevamo saltare di più eccoci qua come vedete una scemenza se sei bravo abbastanza qua puoi usare per esempio lo shine spark per arrivare a quel missile perché qua cadi qua semplicemente cadi quindi non puoi prenderlo eccoci qua andiamo a prenderci la gravity suite penso sia uno degli oggetti più belli all'interno di questo gioco di metroid perché ti sblocca vabbè a parte la possibilità di camminare correre e fare cose in acqua ma tra l'altro esteticamente cambi ma non cambia solo il colore a sto giro cambia proprio la struttura di samus è incredibile devo bere sto parlando troppo ah pazzesco pazzesco quindi per voi che siete arrivati in questo punto vi voglio chiedere qual è la tuta che preferite di samus di tutti i giochi di samus a me piace molto quella di super metroid quella di fusion finale è molto molto carina ma anche questa ad inizio gioco spacca perché è molto meccanica eccoci qua adesso devo ricordarmi più che altro dove andare ok perfetto qua abbiamo sbloccato qua se scendo non ci conviene ma vuoi vedere che qua potrebbe essere una soluzione scendere si lo è credo ci stanno in posti allora dato che adesso abbiamo l'astro salto possiamo letteralmente visitare tutta questa porzione che prima non si poteva visitare dobbiamo scendere giù fino in fondo fino alle profondità di codesto luogo non mi chiedete perché gli sviluppatori hanno preso sta scelta di design di fare un livello sott'acqua di tale portata ok l'ho massacrato massacrato anche questo perfetto possiamo continuare volevo il power up più che altro let's go dobbiamo salire qua ok l'avrei portato anche più giù ma non serve a nulla no forse più giù non si poteva dobbiamo tornare qua perché dobbiamo aumentare il nostro punto di partenza a livello di altezza proprio oh ho sbagliato penso che si possa fare il giro da qua comunque si facciamo il giro da qua che facciamo prima praticamente siccome non possiamo saltare più in alto con l'astrosalto noi cosa facciamo partiamo da un punto un po' più alto e ci arriviamo comunque va comunque alto uguale e qua siamo proprio un burro boys siamo qua apriamo un attimo l'energia perché vorrei dire siamo di 30 di 3 tank sotto meglio stare attenti qua sotto mi pare di aver visto qualcuno si va quanta roba guarda quanta roba siamo quasi alla gravity tutta gravità stiamo arrivando qua ci dovrebbe essere un salvataggio in zona mamma mia quanto pesta questo qua comunque non mi ricordo però come si accedesse oh non non me lo ricordo ok siamo arrivati a un punto moderatamente importante dalla nostra avventura aia questo l'ho sentito si come vedete è nuovo quel mostro è la variante incazzata di quella specie di pipistrello che abbiamo trovato inizio gioco ma posso tipo da qua sa che mi sa di no no ok però questo posso ok accediamo un attimo da qua mamma mia che palle quando fanno così ok perfetto ho vinto comunque io ah ecco qua il salvataggio da dove si accedeva attiviamolo perché mi scoccerebbe non avere un salvataggio attivato nella mappa mi darebbe molto fastidio più che altro mi da fastidio come vi ho detto sta cosa dei quadratini che non sono completi anche se visiti la stanza non ha senso da veramente un fastidio cane ci hai provato ci hai provato il problema il problema è che molti nemici devi affrontarli più di una volta per colpa di questo problema qua che respawnano letteralmente i dannati x quindi al posto di farli singolarmente più forti cosa hanno fatto nel team di mercuri mercuri's team hanno fatto i che spawnano due volte che va bene per carità interessante però madonna raga ma ci credo che non vedo lì prendere sta tutta gravità che non ne posso più di muovermi così cristo santo ok non è servito al molto però tanto oh grande almeno ci fa prendere un'altra tanica di energia che è sempre graditissima uh ouch che male oh madonna meno male che sono respawnati i blocchi ecco come vedete comunque stiamo scendendo piano piano di livello nell'acqua in realtà questo non credo di averlo mai affrontato in generale ok bellissimo quando ti danno quello rosso e ti rigeneri al 100% adesso noi dobbiamo andare qua e dobbiamo spaccare tutto letteralmente adesso vi accorgerete cosa intendo con spaccare tutto che bella questa zona comunque il fatto che siamo sott'acqua vale da solo il prezzo del biglietto secondo me cioè esteticamente clamoroso io odio gli stage sott'acqua ve l'ho detto una marea di volte però qua è è bello cioè ci ha messo un po' a caricare perché boss ah no non c'era il boss è vero qua è impossibile che ci sia il boss perché c'è una cosa super specifica da fare potresti smetterla grazie dobbiamo distruggere tipo un po' di cose qua letteralmente oh finalmente fuori dall'acqua fuori dall'acqua non mi interessa a quanto pare mi deve interessare muori muori anche tu era da un po' che non usavamo sto potere copertura spettro e c'è c'è mamma mia belli loro belli loro che che spawnano così all'infinito e ci permettono di fare le cose adesso dobbiamo salire qua clipando samus nel muro penso che quella cosa possa essere spaccata prima non ne sono totalmente sicuro quindi non prendetemi per non prendete per quello che ho detto per certo però potrebbe succedere ok dobbiamo spaccare qua così quella cosa cade e noi possiamo scendere sotto guardate ha spaccato tutto bello così si fa spacchi tutto adesso però mi devo ricordare da che parte era la gravity qua a sinistra ecco qua ci fa uscire dall'acqua per prenderla se non mi ricordo male sopra di noi eccola qua mamma mia che goduria che goduria che goduria godetevelo magic pancakes perché l'icona sembra un pancake bellissima a parte che il viola è il mio colore preferito nel caso non si fosse capito durante le live su twitch mamma mia poi massacqua si proprio grossissima tutta gravità ottenuta ora resistiamo la lava resistiamo al ghiaccio resistiamo all'acqua potendoci muovere come vogliamo possiamo fare tutto e questo questo era l'ultimo power up per quanto riguarda le armature che possiamo usare all'interno del gioco that's it adesso come vedete oh mio dio si oh mio dio si possiamo fare tutto possiamo fare tutto possiamo fare ogni cosa ora siamo veramente power a parte che possiamo fare l'astro salto che è sempre cosa buona e giusta da fare qua non ero entrato vero no non è che non ero entrato semplicemente avevo ignorato totalmente la zona che è diverso allora qua c'erano i missili a cui non possiamo accedere perché ci vuole l'attacco a vite ya boy l'attacco a vite che noi ancora non abbiamo qua ignoriamo e qua parliamo con adam che ci darà una marea di cose inutili che già sappiamo eccetera cioè in realtà ci darà stavolta proprio stavolta ci darà un dettaglio utile stranamente ovvio che lo è ovvio che lo è allora in realtà non ha detto una cosa sbagliata pensa che sia colpa degli x in realtà poi andiamo avanti e non è colpa degli x ma poi andiamo avanti e scopriamo che è colpa degli x lo so è un po' contorto come ragionamento ma che palle ma tutto attacco a vite ora qua non c'era niente vero si non c'era nulla ok il radar utilissimo tipo miglior potere del gioco presamente ora dobbiamo tornare ad artaria ad artaria ironicamente se non mi ricordo male è racchiuso l'attacco a vite o ad artaria o a cataris però lo si prende dopo il boss che affronteremo ed è ragazzi miei ragazzi miei io sono fisicamente stanco ok di andare da una parte all'altra voglio andare dalla mia rovetta fatemi scappare abbiamo ripreso i poteri un'altra cosa che non capisco è perché Samus a un certo punto i poteri li perde sempre nel senso non hanno mai realmente giustificato la cosa se non con un generico succedevano cose ok eccoci qua arrivati a parte cazzin della madonna tutto ghiacciato per chi non lo sapesse avendo lei adesso dna metroid dentro di sé è molto vulnerabile al freddo ve l'ho detto un paio di volte però ve lo ve lo ridico allora qua in realtà dobbiamo fare una cosetta qua non si vuole perché attacco a vite adesso facciamo così oh oh allora ho un po' cannato quello che volevo fare ecco qua preso il punto è dovete prenderlo adesso perché poi fa questo che ho andato a prenderlo lo so l'infamata però hanno deciso così quindi va bene questo attacco a vite sì tutto attacco a vite ormai va bene aia aia che male fanno la bua eccolo lì quello dovrebbe essere l'attacco a vite non possiamo accedere qua c'è qualcosa no è vero qua non c'era nulla ok spaccato ma qua non si può per motivi di trama aspetta un attimo mi è venuto un dubbio raga ma se io tipo faccio questo aspetta eh vediamo se me lo fa fare sì sì me l'ha fatto rompere gli abbiamo rotto subito lo scudo oh 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 ma dai fa un danno che non ha senso ok mamma mia ma quanto fa male uff ok no è riuscito a morire facendo un parry ok fine easy semplice questo è il metodo con cui farlo veloce lo shine spark la tele cinesi tu in questo gioco vieni premiato se fai le cose come si deve scoprendo queste cose ed è fighissimo che il gioco ti premi oh aspetta cos'è oh qua non c'ero ancora andato aha io questa cosa non la sapevo ah ma c'è un power up lì non l'avevo visto quello di prima ok ecco qua due missili schizziamo a 91 no? let's go 91 è buono bello 91 91 qua abbiamo affrontato il boss qua ce ne possiamo andare oh un energy tank che fa 10 no? siamo a 3 su 4 oh no qua la strada è obbligata perchè 3 quarti di questi sono chiusi sono ghiacciati letteralmente ok ok ah ok pensavo di star morendo invece no era il suono di quando stai subendo danno danno random oddio ho rischiato la vita lì qua si può maybe ah ok è semplicemente chiuso chiuso perchè dobbiamo parlare con adam pensavo ci fosse qualche problema sono riuscito a determinare la causa del rapido raffreddamento del pianeta l'energia termica di cataris non arriva più questa area artania si trova nelle profondità del pianeta è quasi totalmente congelata fa in modo di scongelare le porte e le pozze d'acqua che incontri va bene aspetta è come le sono in problema del pianeta è quasi trova in congelata fa in modo di scongelare le porte e le pozze d'acqua che incontri ah ok a cataris è ancora in funzione devono esserci delle forze che bloccano fisicamente i collegamenti con l'energia termica sospetto che potrebbe trattarsi di un X molto potente devi eliminarlo dopo aver risolto il problema torna qui l'abbassamento della temperatura ti ha impedito di esplorare quest'area deve esserci un'abilità vitale nascosta qui da qualche parte l'attacco a vite l'abbiamo visto prima è il potere più forte del gioco letteralmente tu ti stai muovendo e uccidi tutto dopo che prendi quello sai già che il gioco sta finendo oh il cacchio che mi beccate non mi beccate lasciatemi in pace cioè si forse magari riuscite a prendermi un pochino però cerchiamo di non farmi prendere troppo qua è bloccato quindi dobbiamo per forza entrare qua dobbiamo andare a cataris no? come si andava a cataris? da su c'è un modo alternativo per andare a cataris? si da qua giù perché è tutto congelato qua qua c'è qualcosa non mi aspetta qua c'è un potenziamento eccolo qua due di missili easy oh mio dio come l'ho evitato l'avete visto? mamma mia ma che palle che sei dammi qua tanto era quello rosso quindi siamo a posto altri missili viva il backtracking c'è anche le zone in miss sono congelate pazzesco allora qua possiamo salvare ops qua possiamo salvare e siamo a posto proprio easy e avanziamo adesso ahia ok la strada è giusta si da qua si dovrebbe arrivare a cataris non attivo la telecinesi perché tanto si rallenta e basta aspetta un attimo prima di avanzare eh non è congelato volevo esplorare quella stanza wow ok bellissima la lava in contratto col ghiaccio qua non si può entrare qua non si può entrare qua si eh la strada è obbligatoria ma poi guarda come si sono subito adattati gli X pazzesco eccoci qua cataris arriviamo mamma mia non vedo l'ora mamma mia non vedo l'ora vamos ah non vedo l'ora di prenderle dal boss siamo già mezz'ora di registrazione no 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 in questo episodio mettiamo anche il boss in questo episodio mettiamo il boss perché poi andiamo a prenderci lo screw attack nel prossimo non penso di riuscire a finire il gioco adesso c'è gente che riesce a finirlo in un'ora e cinquantotto minuti circa due ore di tempo reale sono scesi a un minuto a un'ora e trentotto minuti al momento questo è il guinness world record mentre sto registrando un'ora e trentotto minuti cioè letteralmente ho preso treni che sono durati più tempo di questo gioco speedrunnato ovviamente per speedrunnarlo devi conoscerlo a memoria non è ovviamente un tempo che riesce a fare così si loro continuano a sparare comunque fuoco cioè riescono non si sa come potrebbero letteralmente sciogliere tutto da soli salvataggio ovviamente tutte queste animazioni eccetera io faccio il salvataggio e loro le schippano non salvano niente non prendono nulla prendono giusto gli oggetti obbligatori se ce n'è via ecco qua missili questo qua per le run 0% sarà un inferno da evitare oh eccolo qua ok sconfitto qua mi pare che ci fosse un potenziamento vediamolo c'è no non c'è ok allora il boss dovrebbe essere di qua raga sarà difficilissimo probabilmente perdiamo io ve lo faccio vedere ma le prendiamo guardalo tutto avvinghiato tutto avvinghiato intorno al meccanismo in realtà già lo conosciamo sto boss ve lo dico già abbiamo già visto molti di voi avranno anche già capito quale ventole quale sono le ventole del mio computer se non lo pulisco per un mese in senso ingrovigliarsi di schifo modo eccolo 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 guarda un po' guarda un po' che arriva l'esperimento che abbiamo visto è stato assorbito anche lui dagli X ed è tornato quindi in vita Samus che indietreggia da serie oh shoot hello bene lui è un po' forte aiaiaiaiaiaia eccomi qua eh vabbè che male eccomi qui mamma mia ma quanto è forte raga aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Che poi non ho ben capito Ma è tipo Un metroid Questa cosa non l'ho capita Tipo mai A parte che mi sto facendo colpire In situazioni stupidissime Ok L'ho evitato Ok buono Buono anche così Ok non mi ha preso Buono che siamo atterrati subito lì Ok Ora ci farà un attacco E noi facciamo il ferry Lo spariamo con questi Con i missili Qua E poi andiamo dritti dritti In seconda fase Se riuscite a fare il ferry così A colpirlo Andate direttamente in seconda fase Praticamente Ma non mi ha restituito Praticamente niente Adesso dovete fare questo Ecco qua Adesso bisogna correre Correre E basta Bisogna fare altro Due Tre Dovevo usare lo shine spark Ma non ci sono riuscito Ma non è un problema Poi ha un bot arrabbiato Se non riuscito a fare lo shine spark E shottarlo Potete comunque ripiegare sul ferry È il metodo migliore per fargli danni Recuperare missili Recuperare energia Recuperare qualsiasi sorta di risorsa In questo fight Adesso se non dico una scemenza Dovrebbe rimettersi le braccia No non le mette Ha capito che non gli conviene Ok Eccolo qua Madonna di dio Allora uno Il prossimo è da tre Il prossimo è da uno Il prossimo è da tre Due E uno Ah ci ho provato È stato bello provarci Stiamo qua va Che quella cosa toglie troppo Non ho missili Di nuovo Aia Facciamolo di nuovo Uno Tre Uno Tre Due Uno No due Eh ci ho provato È stato bello crederci È stato bello crederci Facciamolo perché mi ha leggermente umiliato prima E sta cosa non va bene Ok O che si fa per dire In realtà me la sto facendo sotto Perché è fortissimo Questo È uno dei boss più forti del gioco Se non il boss più forte del gioco Anche più forte del boss finale A mio parere Oh grazie a dio Non l'ha rifatto L'attacco Uh Lucky Ok ci arriva un perry Della madonna Questo perry ti aiuta A rifucillarti di missili Di energia Ma soprattutto A fargli una sbrega In mezzo di danni E se riesci Anche a passare in fase 2 Dalla fase 1 Perché questa era la prima fase Ovviamente Ok Eccolo qua Adesso inizia la fase In cui è particolarmente Incazzato No ancora no Ok Ora inizia la fase In cui è particolarmente Incazzato Ok Ora dovrebbe iniziare Eccolo là A sputacchiare Qua dovete solo correre 1 2 3 1 3 2 Il prossimo dovrebbe essere Quello da 1 Se riuscite a sparargli Uno shine spark lì Avete vinto Letteralmente Avete vinto Non lo sto dicendo tanto per Ok buono Non vorrei però Finire i missili Perry Io li sto sparando Proprio A ripetizione Adesso non so Cosa farà Il prossimo attacco Farà di nuovo Quello con le braccia No Fa sempre questo Buono Braccia in alto Si Ok rotte Ok ora fa di nuovo questo Io ci riprovo a fare lo shine spark Non so se riesco No non sono riuscito È fattibile Là in caso Ve lo state chiedendo Cosa fa di nuovo Madonna di nuovo Vuole proprio prenderle Cioè vuole essere sconfitto In quel modo Ok Ah si ok perfetto Entriamo di nuovo in questa fase Lo shine spark Lo shine spark lì è possibile farlo Ne sono sicuro Al 100% Quello che non riesco Perché comunque ci vuole un tempismo Veramente è pazzesco Più che altro mi chiedo Ok Perfetto Ecco praticamente Se riuscite a fare lo shine spark Subito dopo quella cosa Entrate subito In questa fase La fase in cui vincete Ovviamente era un nucleo X Come vi dicevo Fighissima questa scena comunque Ed ecco qua Che abbiamo Scongelato tutto Non male Non male Guarda che roba Guarda che roba Boom Mamma mia Ma quanto è cazzuta Samus Quanto Ma te che sono curioso qua Di vedere Attacco a vite vero Attacco a vite Neanche ci provo Bella per noi comunque Bravi 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 Adesso qua Ci sono i mob normali Qua è tornato tutto Normalissimo Teoricamente potremmo anche Già salvare Io salverei Salviamo E ci vediamo nel prossimo episodio Per prendere Lo spark attack L'attacco a vite Anzi lo screw attack L'attacco a vite Detto ciò Io vi aspetto Alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti